Sai benissimo che non ne posso fare direi, come voi tu, in una ritastra profe. Sono tutti fatte a mano da una città che sta riposando. Questo è il mio. Va, questo è il mio. Vai, io ti sentiamo che è stato detto che non mi ci può tornare. Vedi via. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.